Quello appena passato è stato un anno complesso e ricco di problematiche, è la riflessione del prefetto di Salerno Gerarda Maria Pantalone in occasione del tradizionale incontro per lo scambio di aguri per le festività natalizie. Tra le questioni affrontate, il recente problema della sicurezza che ha riguardato diversi comuni dell'agro nocerino sarnese fino ad arrivare ai diversi sbarchi di migranti che hanno interessato il porto di Salerno. Un anno diciamo abbastanza complesso, pieno di situazioni tanto problematiche, dal sociale all'ordine della sicurezza, da questa novità che abbiamo avuto dello sbarco dei migranti a tante situazioni che abbiamo dovuto affrontare. Io dico che i problemi non si possono risolvere con una bacchetta magida né risolvere immediatamente perché altrimenti non sarebbero stati problemi, non sarebbero state problematiche forti. Quello che io posso dire è che c'è il solito forte, fortissimo impegno di tutte le istituzioni e quella spinta che possa dare un qualcosa di più. Noi speriamo che si parta dal nostro territorio.